se sulla nove i pro palestina hanno avuto mano libera sulla sette la passionaria rula gebreal ha avuto qualche barricata in più sotto forma di luca telese e marianna aprile nonostante questo la nostra ha dato il meglio di sé due i picchi a cui i telespettatori hanno assistito il primo quando la giornalista che vive a new york ha apertamente parlato di pulizia etnica che israele avrebbe attuato nel corso degli anni ai danni dei palestinesi la seconda quando ha una domanda di un misterioso ex parlamentare del pd come si fa a sradicare hamas senza bombardarlo ha reagito con veemenza invitando il parlamentare a studiare e non fare domande allucinanti come quella per il resto la gebrea l'ha condannato senza mezzi termini hamas ma ha pure invitato la comunità internazionale a fare pressioni su israele che è lo stato più forte del medio oriente la comunità internazionale a fare pressioni su israele che è la scena Grazie a tutti. Grazie a tutti.